48 nuovi casi e 119 guariti, 4 nuovi ricoveri e un decesso. Sono i dati contenuti nel bollettino diffuso ieri sera dall'ASP e che riepiloga la situazione degli ultimi 5 giorni se si considera che l'ultimo report risaliva al 4 dicembre scorso. Alla luce del numero delle guarigioni che supera abbondantemente quello dei nuovi casi, molti comuni registrano di conseguenza una situazione in netto miglioramento. È il caso per esempio della città di Sciacca dove gli attuali positivi adesso sono 63. Significa che in questi 5 giorni ci sono state ben 16 guarigioni visto che l'ultimo bollettino riportava 79 casi. Stesso discorso per Sambuca di Sicilia e Santa Margherita Belice. Non ci sono stati nuovi casi in questi giorni ma solo guariti. E così a Sambuca gli attuali positivi al covid sono passati da 25 a 20, a Santa Margherita Belice da 20 a 15. Buone notizie anche per Caltabellotta dove sono solo due le persone contagiate. Il 4 dicembre erano 5 e per la città di Menfi con tre soggetti ancora positivi nel precedente report erano 4. Fanno eccezione nell'Interland e Sacenze i comuni di Ribera e Cattolica Eraclea, gli unici che a differenza degli altri registrano un aumento di casi. A Ribera adesso le persone contagiate sono 60, una in più rispetto all'aggiornamento del 4 dicembre. A Cattolica Eraclea tre i nuovi contagi per un totale adesso di 4 casi. Anche nel resto della provincia, eccezione fatta per il comune di Palma di Montechiaro dove ci sono stati 4 nuovi contagi per un totale adesso di 92 casi, la situazione è migliorata in questi giorni. A cominciare da Canicattì che resta sempre il comune più colpito ma che ha registrato ben 24 guarigioni che hanno portato da 226 a 202 gli attuali positivi. Stesso discorso per Agrigento. Anche qui i casi sono diminuiti con 13 guariti per un totale adesso di 84 persone contagiate. 11 casi in meno in tre comuni e precisamente a Campobello di Licata dove adesso sono 111 le persone con il virus, a Licata dove adesso i positivi sono 40 e a Grotte che scende a 26. Scende il numero dei contagiati anche a Naro, meno 15 per un totale adesso di 23 casi. Stabile la situazione negli ospedali, di 39 le persone ricoverate in regime ordinario al San Giovanni di Dio di Agrigento e 6 in terapia intensiva. 7 quelle ricoverate nella medicina Covid del Giovanni Paolo II di Sciacca. Nessun ricovero invece nella terapia intensiva del nosocomio Saccense. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti